Musica Ciao ragazzi, qui le le bentornati sul mio canale ed eccomi qui con un nuovo video su Black Ops 3 Questo ragazzi è un commentary perchè come vedete non sto giocando Ho registrato una partita su gioco delle armi e ragazzi ho vinto Prima partita che ho vinto su gioco delle armi E che dire, vi dico subito di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di commentare Ecco ragazzi, sta iniziando adesso la partita La commenterò ragazzi Allora, io non ero convinto di vincerla, sinceramente Infatti mi sono stupido parecchio Ok, cominciata Ok ragazzi, come ben vedete Sono scattuto in avanti e ho fatto subito la prima kick qua davanti Qua mi ha ucciso sto bastardo E niente Ok Abbastanza bella come partita ragazzi Guardate che roba, cioè l'ho inseguito, mi sono abbassato e l'ho ucciso dopo per culo ragazzi Per culo, veramente tanto culo Qua ragazzi mi ha ucciso lui perchè c'è avuto 3 ore per ricaricare Qua era 20 ragazzi, il primo era già 40 Quindi ho rischiato Però mi sono ripreso dopo, adesso vedrete ragazzi Qua l'ho ucciso Adesso col pompa ragazzi mi pare che l'ho ucciso subito Non è vero, ma è la vita L'ho ucciso subito Non trovo proprio nessuno Ok, bam Perfetto Ucciso Ecco adesso anche questo l'ho ucciso subito Qua l'ho ucciso da dietro ragazzi Non ci avevo fatto minimamente caso Ok, sono indietro di due punti C'è di due kill rispetto al primo Pam 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 Questo l'ho preso da dietro Questo ragazzi che è ucciso Perché non l'ho visto inizialmente So che si vede ma non l'ho proprio visto Ok, qua adesso siamo nelle mitraillette No, nei mitraillette No, nelle mitraillette Ecco ragazzi Adesso questa qua ragazzi la farò mi pare subito Mi sono stupito che era anche ragazzi Perché sono 3 ore per uccidere Con quella cacchi di cosa Non è identificata Perfetto Questo ragazzi tra l'altro è il primo commentary Che faccio sul canale Ok Oh le Qua ragazzi ho messo 3 ore di caricare Ragazzi il problema ragazzi Ci mette tantissima carità E sta cosa Ci vende tanta penalità a volte Qua ho fatto ragazzi una strage Questo è volato Perché non sono riuscito a uscire Perché dovevo ricaricare Ma l'è dentro non è altro E niente Adesso vedremo Ecco Guarda Perfetto Ragazzi sto fucile È un abominio sto fucile Non riesco mai a ucciderla Prima ora È un abominio Sto fucile ragazzi È inutilizzabile Ma non perché sia brutto il mirino È proprio il fucile che fa cagare È proprio il fucile che fa cagare Oddio pure il mirino è un po' Cioè Un po' da nabbo eh Però È figo Ti fa vedere Diciamo Visione termica Ragazzi come ben vedete Ci vado poco d'accordo Con questo mirino E con questo fucile Soprattutto Magari senza mirino È più forte Non lo posso sapere Però Fa un po' cagare Ok ragazzi Mi treggi leggere Come ben vedete Sono a pari merito Col primo Siamo 140 140 Adesso è andato in vantaggio lui E niente Adesso vedremo un po' come Si evolve la partita Ok Perfetto Qua è Eccolo lì Manucci Eh Ragazzi Bam Qua con il cecchino Ho fatto un mezzo miracolo Ragazzi sto cecchino qua lo voglio Guardate È una bestia Ok Ora lanciarazzi Oddio Purtroppo ti costringono a fare Ok ragazzi Siamo 180 160 Siamo in vantaggio E siamo col coltello Dobbiamo uccidere col coltello Qua ho fatto una kill troppo figa Guardate Ho fatto una kill troppo figa Ecco Dopo Aspettate Dopo ho fatto veramente Una anche Mostruosa Adesso Mi pare È un po' girato ragazzi Col coltello Perché comunque non è facile Perché di andare Cioè Le armi non è tanto facile O li becchi dal dietro O fai una scivolata Che gli spacchi i denti Adesso forse No Questo è dentro di là C'è caduto giù Difficente Pam Fatta Ragazzi Ultima kill Siamo 190 Siamo qui Solo quei pugni Ragazzi Non c'è più il coltello balistico Ci sono i pugni Pam E pam ragazzi Vittoria Abbiamo vinto ragazzi Lele Jackson Ha vinto Fantastico Beh ragazzi Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi e commentate Ragazzi Spero vi sia piaciuto Questa partita Gioco delle armi Noi ci vediamo Al prossimo video Bella Un colpo Un morto Non se ne accorgono neppure Grazie